L'esperienza scuola-lavoro è un'esperienza da salvare, anzi da rilanciare, lo pensa il segretario generale della Fincisl Marco Bentivogli, che da una tavola rotonda tenuta a Bassano lancia l'allarme contro quella che viene ritenuta un'immagine sbagliata di quelle occasioni di conoscere il mondo del lavoro quando si studia. Racconta di come da sindacalista rimase senza parole e anche con dolore quando i ragazzi contestarono l'alternanza scuola-lavoro, con lo slogan Siamo studenti, non siamo operai, come se qualche settimana da operaio non possa essere formativa per tutti. L'alternanza scuola-lavoro è stata spesso gestita a livello territoriale con esempi pilota che sono andati benissimo, ci sono dei casi assolutamente negativi, il problema è che sono stati pubblicizzati solo quelli negativi, bisognava far contagiare le esperienze negative con quelle positive, non il contrario. È questione di narrazione? C'è sicuramente una questione di narrazione, le notizie sono sempre le brutte notizie, le buone notizie non diventano mai notizie, bisognerebbe un po' ricostruire un sistema di fiducia in questo paese anche raccontando di chi fa il proprio dovere e delle cose che vanno bene. Noi siamo un paese che ha un livello di risparmio accantonato gigantesco che non viene investito proprio per questa cultura della paura.